Noi chiediamo semplicemente di poter completare la quarantena domiciliare, così come è già stato consentito agli altri cani che si trovavano presso il canile di Arezzo, proprio perché la legge prevede, accertate le condizioni di sicurezza dell'isolamento, di poter completare questo periodo in casa. E' questo l'appello di Elisabetta Di Benedetto, la proprietaria della cane e del gatto sequestrati ormai tre mesi fa, ossia da quando Penelope, l'amica con la quale convivevano, è morta di lissavirus. Comunque sono trascorsi tre mesi dall'ultimo contatto con questa gattina e non hanno né mai avuto segni evidenti di morsicatura, né manifestato sintomatologia riconducibile alla rabbia. Come stabilito dall'ordinanza del sindaco di Arezzo, attualmente Birba Cagnolina Meticcia si trova chiusa nel canile della cella di Arezzo, mentre Olivia, una gatta che tra l'altro poco prima dell'isolamento aveva partorito tre mici, è stata portata in un gattile di Firenze. I gatti ancora ancora sono almeno in compagnia, cane completamente da solo, isolato, è un cane di dieci anni, abituato in famiglia, abituato a un giardino grande, che si trova improvvisamente confinato in uno spazio così, non credo che non possa non riportare un trauma. Da qui l'ennesimo appello della proprietaria perché gli animali vengano liberati ovviamente in tutta sicurezza con l'isolamento domiciliare. Pensiamo che questa potrebbe essere una soluzione che riesce a tenere insieme sia le esigenze della salute pubblica, laddove ci dovessero ancora essere dei rischi, insieme però a quella che è anche la tutela degli animali, perché in tutta questa vicenda gli animali ne hanno sofferto veramente in maniera pesante. Si è trattato di un provvedimento molto punitivo nei confronti degli animali.